Emerge un quadro inquietante sulle interazioni sessuali tra adulti e adolescenti, virtuali o fisiche che siano. E quanto denuncia un'indagine shock realizzata da Saved Children, come spiega il direttore generale Valerio Neri. Oltre il 38% dice che è accettabile avere rapporti anche di tipo sessuale via internet e quindi anche un po' virtuali con gli adolescenti da parte di un adulto. Che non c'è niente di male, per il 20% è assolutamente accettabile, per il 18% a condizione che il ragazzo o ragazza sia consensiente. A noi invece pare una grande deresponsabilizzazione degli adulti. Per quasi un italiano su 10 l'iniziativa parte dai ragazzi e addirittura un italiano su 100 pensa che possa essere un'occasione di apprendimento per l'adolescente. Secondo noi questa è anche una gentile scusa, cioè tu sei comunque un adulto, prima di riferirti a un ragazzo in rete stai attento a te come adulto. È troppo facile dire sì ma loro sono disinibiti, ci pare a tutti noi un po' una giustificazione di un comportamento irresponsabile. Il 28% degli adulti tra i 45 e i 65 anni ha tra i propri contatti internet giovani che non conosce personalmente. Molti di questi si affacciano alla rete per colmare un importante vuoto relazionale e affettivo nella vita reale.